Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati qui sul mio canale per un nuovo contenuto signori Oggi per il video delle 7 portiamo un nuovo giochino che si chiama Among Us Non so se lo conoscete, è un giochino in cui di una sorta di sopravvivenza, spionaggio, ora ve lo spiego con calma Prima di partire con questo video signori non vi preoccupate che Brawl Stars tornerà tranquillamente alle 7 domani Detto questo signori vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook Ed se volete sostenere il canale delle piccole donazioni lo potete fare tramite il link che trovate in descrizione a questo video Detto questo partiamo Ok signori, allora, cosa consiste Among Us? Among Us consiste, noi siamo in una sorta di navicella spaziale Sì, siamo in 10 personaggi o mini di lì che non si capisce cosa siano E uno di questi, di questi 10, anzi stiamo partendo forse in meno E' un impostore, cosa deve fare l'impostore? L'impostore deve uccidere tutti gli altri concorrenti e sabotare la navicella spaziale E sabotare la navicella spaziale Noi nel frattempo dovremo sia scoprire chi è l'impostore Sia scoprire chi è l'impostore Sia a sua volta fare in modo da sistemare alcuni problemi che ci saranno all'interno della navicella spaziale Detto questo aspettiamo che la partita parte raga e la giochiamo assieme Ok ci siamo cambiato da colore raga e siamo partiti Ok, vediamo se siamo noi gli impostori No, ci sono due impostori signori miei Ci sono due impostori Allora, vedete benissimo che a sinistra, in alto a sinistra Noi abbiamo degli obiettivi che deve fare Ovvero Electrical, Fixed Wing, Storage Full Energy, Weapons Download Data E Navigation Stable Sterling Allora, intanto andiamo a fare un attimino Cerchiamo una Energy Fly, Fly Light Che cosa è successo? Qualcuno forse ha i miei stessi obiettivi Ah ecco, a posto Già è morto qualcuno raga Già è morto qualcuno Sono morti Senku e Keniel Porca miseria Ok, stiamo calmi E vabbè, così è difficile Qua c'è tutta la chat raga Yellow, 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 evidence Vediamo se ci abbiamo preso Tutti hanno votato per il giallo signori miei Ricordiamoci che ci sono due impostori Due impostori Vediamo se il primo l'abbiamo beccato Il primo l'abbiamo beccato Was not an impostor Porca miseria Abbiamo buttato fuori uno che non era un impostore Questa cosa è gravissima Questa cosa è gravissima Allora, intanto andiamo al navigator Che non ho capito che problemi c'è il navigator Andiamo al navigator Non è questo il navigator No, io sono le comunicazioni Electrical Allora, navigator dall'altra parte Io ancora non è che ho preso confidenza raga con questa nave Porca di una miseria Allora, il navigator è di qua Qui c'è il ninja Ok, me lo fai usare? Che devo fare? Centriamo il punto Ok, task complete Perfetto, ok Poi mi serve il weapon Dove sta il weapon? Il weapon a sinistra A destra Ok, andiamo al weapon Andiamo al weapon che è qui vicino Un weapon, un weapon, un weapon, un weapon, un weapon Ok Use Che dobbiamo fare? Defeat Abbiamo perso? Ah no, abbiamo perso No, ma perché? Ma stavo andando così bene Abbiamo perso raga Giochiamo di nuovo Giochiamo di nuovo Ci siamo raga Stiamo per partire Tre No, ne abbiamo perso uno Sì, ok Adesso stiamo per partire Quattro, tre No, ne abbiamo perso uno Mamma mia Ma fanno Venti, intraesci Venti, intraesci Dai, forse ce la facciamo Forse ce la facciamo Tre Due Uno Ok, siamo partiti Vediamo quanti impostori ci sono E se capitiamo noi fra gli impostori Non capitiamo noi fra gli impostori C'è un solo impostore raga Ok Ok Siamo nuovamente sulla navicella spaziale Ok Navigation 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 Allora La zona di navigazione dovrebbe essere di qua No 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 Vappon Navigation Ok Navigation Navigation questo è di qua Usa Usa, 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 us Che dobbiamo fare? Ok 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 E questo l'abbiamo completato Perfetto Player 1 Cosa fai lì? Electrical Poi dobbiamo andare Tutt'altra parte Quindi all'electrical Ci possiamo passare dallo storage da sotto Ok Quindi torniamo in caffetteria Torniamo in caffetteria Torniamo in caffetteria Velocemente, velocemente, velocemente Passiamo da sotto Qualcuno E' morto qualcuno Raga E' morto qualcuno Ok Fithead E' morto Fithead Signori miei Le rotazioni inizieranno fra 6 secondi Non ero la più palle di idea Non ero la più palle di idea In chat non scrive nessuno Where Who Non ero la più palle di idea Boh Proviamo orange Signori Io voto per orange Così subito Diretto Senza pensarci troppo Senza pensarci troppo Allora Questo giochino mi piace Raga Mi piace Se piace anche a voi Oltre a portare qualche altro episodio Potremmo anche provare a fare qualche live Nell'eventualità Nell'eventualità Potremmo Se qualcuno ce l'ha Potremmo giocare anche assieme Ok Molti non hanno votato Vediamo se ci abbiamo preso Dell'impostore No Nessuno è stato N'è stato buttato fuori Perfetto Un impostore è rimasto Ottimo Allora io devo andare Abbiamo detto La caffetteria Devo scendere qua sotto Nello storage Che c'avevo qualcosa da fare Perfetto Ok Allora Viola con viola Giallo con giallo Blu con blu Perfetto Rosso Rosso con rosso Ok Poi Altri punti di energia Altri punti di energia Dove stanno Storage Aspettate Io devo Seguiamo la freccia Seguiamo la freccia Seguiamo la freccia Seguiamo la freccia Eccolo qua Un altro punto di energia Un altro punto di energia Uniamo i fili Giallo con giallo Giallo con giallo Rosso con rosso Che stavo facendo Che stavo facendo io Che stavo facendo io L'altro L'altro No questa l'avamo fatto Dobbiamo seguire la freccia Ma mamma mia Che confusione Signori Che confusione Allora Dove dobbiamo andare Di qua Dai 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 Seguiamo la freccia Seguiamo la freccia Dove l'altro punto di energia L'altro punto di energia Ok Usa Ok Siamo dei bravi elettricisti Raga Attacca qua Attacca qua Attacca qua E attacca qua Perfetto Questo abbiamo fatto pure Poi Che altro c'è da fare Lower energy In basso In basso In basso In basso Corri 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 Che devo fare Questo No Dove sta Oh eccolo qua Ok Usa E che devo fare Ok E questo l'abbiamo fatto Dobbiamo andare a far l'altro Dai 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 Veloce 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 Dai 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 was in admin world 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 e sì e perché dobbiamo votare v e mai non la voce energy bigono ha già votato io che avevo votato il blu plus tu sei tu per me l'assassino io ho votato va bene per me io ho votato raga per me io ho votato vediamo se gli altri votano pure e se teniamo qualcosa di interessante dai 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 ok ma ne solamente il voto di anthony dai anthony vota anche tu anthony anthony perché non vota anthony da anthony hanno votato per me qualcuno ha votato per me bastardo vediamo nessuno è stato buttato fuori rimane ancora uno flex attenzione no dicono di quando dicono di quando flicks light hanno disattivato le luci da dove ci si arriva alla zona luce di qua no questa deve essere la security cam no 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 come ammazzano anche le luci le hanno riattivate io devo fare l'ultimo discorso del quello delle armi elettrico ok love energy quindi scendiamo di qua ok ci andiamo di qua ci andiamo di qua ci andiamo qua giro di qua devo fare qualcosa qui ma non so che cosa ok usa vai che cavolo è questa cosa signori comand sabotage no ma non volevo sabotare sono stati sabotati i comandi porca miseria presto 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 andiamo sistemi dei comandi qualcuno che sistemi comandi velocemente dai 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 bigut non è non è sicuramente bigut e player sicuramente non sono ok ma non activate no chi è morto ma perché muoiono così tutti raga anthony ha chiamato allora non avevo votato plosu e non era lo su non era vediamo se qualcuno parla where lo su where con chi ero io e was in coms i think it's blue io penso che il blu orange no ma ora non era come chi c'era con me nella stanza porca miseria chi c'era e intorno a voto se non è intoni dovrebbe essere furbo perché chi ha chiamato l'allarme che ha chiamato l'allarme ha ucciso e ha chiamato l'allarme ok orange tutti hanno votato orange vediamo se questa partita riusciamo a portarla al termine raga ora non ci è stato buttato fuori ora non ci può essere in posta c'hanno preso raga abbiamo vinto abbiamo vinto signori miei abbiamo vinto bella così bella così allora ragazzoli io vi ringrazio ricordato questo video vi ringrazio che per i commenti per i suggerimenti io spero che questo gioco vi piaccia mi piacerebbe portare le live così da poter giocare assieme anche con voi detto questo noi ci vediamo sempre qui su questo canale per un prossimo contenuto bella raga ciao